e produzione di energia tramite il fotovoltaico. Terzo, se vogliamo essere questo, una grande fabbrica di batterie, perché l'Europa nel Consorzio Europeo... I metalmeccanici torinesi sono nuovamente in piazza perché la crisi che prima del Covid era molto profonda, adesso si è ulteriormente aggravata. Siamo in piazza perché comunque noi abbiamo delle proposte, delle proposte di uscita dalla crisi. Abbiamo una piattaforma che prevede che Torino diventi nuovamente capitale dell'auto, in questo caso capitale della mobilità in senso generale ecosostenibile. Chiediamo che ci sia sistema con le istituzioni, con le imprese. A Torino dobbiamo chiedere a PSA ed FCA di portare un ulteriore modello di auto del segmento B. Bisogna infrastrutturare la città tramite le paline di ricarica, tramite i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. E poi dobbiamo costruire nella nostra città una grande fabbrica di batterie. Questo perché ci si inserisce nella strada dell'economia pulita e sostenibile, perché se si hanno dei progetti, i soldi che l'Europa sta mettendo a disposizione, 170 miliardi del recovery fund, più quelli che il governo italiano stanzierà, si possono spendere se si hanno dei progetti, altrimenti quei soldi non saremo neanche in grado di utilizzarli. Ecco perché i metalmeccanici hanno una visione, stanno chiedendo delle cose corrette, fattibili. Se le implementiamo tutti quanti insieme, dalla crisi usciremo e paradossalmente possiamo uscirne addirittura rafforzati. Se invece prevarrà che ognuno tirà col suo mulino, non si avranno delle idee, Torino inevitabilmente declinerà, ci sarà un'ondata di licenziamenti, molta disoccupazione e nessuna prospettiva per il futuro. I meccanici vogliono evitare questo. La regione sta lavorando al rilancio dell'ambito, soprattutto anche dell'automotive, che deve vedere in Torino il suo fungo. Stiamo lavorando a un'academy dell'automotive che possa portare formazione, innovazione e accompagnamento di tutte le imprese, anche quelle della filiera, nel rilancio di un settore che è imprescindibile dalla realtà della città di Torino e del suo Uberland. Stiamo lavorando a un'academy. Grazie a tutti.